Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio B di Media. La domanda è questa, agli intervistati lei prenderebbe in considerazione l'idea di votare Ilaria Salis? Nel PD il 40% risponderebbe sì. In AVS il 76% risponderebbe sì. Nel Movimento 5 Stelle il 21% risponderebbe sì. In Pace, Terra e Dignità il 39% risponderebbe sì. Stati Uniti d'Europa l'8% sì e il non voto è il 6%. A livello nazionale risponderebbe sì il 9,6%, no il 57,9%, non so il 6,1% e incredibilmente non la conosco, 26,4%. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo al prossimo video.